Un palo di Antonelli dopo 12 minuti di gioco ha preannunciato la buona disposizione del Milan impegnato a San Siro nella Mitropa Cup contro gli Ungheresi della Ladas. E' stata una partita abbastanza divertente anche se la squadra che si è opposta ai Rossoneri non è apparsa mai triandentale. La prima rete è giunta al quindicesimo, azione Rossonera sulla destra e fallo su Tassotti quasi sulla linea di fondo. E' Romano a battere la punizione per la testa di Collorio. 1-0 per il Milan. La nebbia si infittisce nella ripresa ma non impedisce agli spettatori di applaudire tre azioni dei Rossoneri neutralizzate dal portiere ungherese. La prima è del vivacissimo Antonelli. La seconda è del libero Venturi inseritosi alla Shirea. La terza di Jordan su invito ancora di Antonelli. Poi la seconda rete è a 10 minuti dal termine e incocciati a deviare di testa su punizione contro la Ladas. Il resto lo lasciamo alla vostra fantasia perché per mostrarvelo ci sarebbe voluto un pallone catarifrangente. Poi la finezza di Grazie.